I tempi sono strettissimi, le elezioni sono terminate col ballottaggio proprio nella notte che ha preceduto l'arrivo dell'estate. La stagione più importante è iniziata a ridosso della tornata elettorale, dunque niente programmazione e tutto va fatto in pochi giorni. Una prima sfida non facile a una settimana dal voto per il nuovo sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'amministrazione comunale di centro-sinistra. Pochi giorni per fare molte cose inderogabili, a partire da un calendario di eventi estivi degno di una località balneare. Potrà sembrare strano, ma agli occhi della città questo è il primo banco di prova dopo le forti polemiche degli scorsi anni. Gli appuntamenti organizzati dal Consorzio Vivere Vasto Marina, che sabato ha aperto la stagione estiva col pienone, da soli non possono essere sufficienti. E poi le solite grane mai completamente risolte, l'isola pedonale per la quale Menna ha promesso il dialogo agli operatori turistici, il servizio notturno dei vigili urbani, che da anni è fonte di rapporti tesi tra comune e sindacati, e quindi la questione parcheggi. E questo è il parcheggio coperto di via Martiri Istriani, un altro emblema dello spreco di denaro pubblico. Parcheggio per modo di dire perché questo di fatto è un garage sotto un palazzo di Vasto Marina. È stato acquistato negli anni 90 per la cifra di oltre 2 miliardi di lire. È rimasto praticamente inutilizzato, se non in alcune circostanze e per alcuni eventi estivi. E poi c'è la lotta all'abusivismo con gli irregolari, che nello scorso fine settimana sono tornati a stazionare sulla riviera. E inoltre il problema degli accessi al mare. Vasto accessi al mare da recuperare e valorizzare. Pierpaolo Del Casale è un cittadino che ci ha segnalato diverse criticità. È tutto sporco, qui ad esempio a Casarza. Sì, sì, infatti. Basta dare un'occhiata già al parcheggio per rendersi conto in che condizioni pietose è ridotto. Perché qua infatti c'è immondizia, erba alta, accessi proprio non curati e soprattutto molta molta inciviltà. In alcune zone non si può neanche entrare, lei ce l'ha segnalato. Sì, infatti. Nella zona di Vignola, per esempio, che è una delle più belle, non si può accedere al mare perché ci sono dei terreni privati. Insomma, situazioni critiche. Serve un intervento veloce, immediato, anche perché siamo già nella stagione estiva. Già arrivano i primi turisti e quindi non è un bel biglietto da visita questo. E a distanza di un anno torniamo all'accesso al mare di località San Nicola, una delle baie più belle dei 18 chilometri della costa vastese. La situazione qui non solo non è migliorata, ma è anche peggiorata. Vedete la vegetazione folta e alta sopra i due metri, ma soprattutto tutta la zona di questo parcheggio è stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva.